Ciao ragazzi, sono Ceno Kakuna e bentornati in questo nuovissimo video di MiGP per mostrarvi un addons che ci prometterà di diventare più piccoli, ovvero bambini. Ma in realtà esiste già il tempo, solo che però di recente sembra essere stata aggiornata per la 1.6 o 1.4, quindi le ultime versioni. Purtroppo ancora non c'è la versione, anzi la visuale è bassa come nella versione PC, ma speriamo che questa Fiatur se la aggiungeranno in un futuro aggiornamento. Ma per il resto l'addons va benissimo. Potremo vedere tutti gli oggetti che teremo in mano in versione piccola. Stessa cosa vale anche per le armature e per i mantelli, quindi se siete interessati in descrizione vi lascerò il link su come installarli e applicarli in gioco. A patto che abbiate skin 64x64. Puoi ce ne notare che abbiamo questa camminata frettolosa sia quando camminiamo in maniera normale oppure quando corriamo. E ora per testare fra virgolette la nostra dimensione, ma anche per dimostrarlo, creerò un tunnel apposito, uno per un blocco. Facciamolo subito, dai ora entriamo nella cosa. Ed effettivamente è molto figo e molto bello da vedere. È anche un buon modo per nascondersi in posti piccoli abbastanza comodi a dire la verità. Ma se siete in terza persona purtroppo. Detto questo credo che il video può finire qui. Se per caso vi è stato di granimento lasciate un bel like, iscrivetevi e commentate. E in descrizione troverete il link dell'addons. E quindi ci vediamo alla prossima gente.